Il mio figlio è nato da donna, ha mandato nei vesti fuori lo spirito del figlio. Nel spirito santo e nel nome di Gesù ci rivolgiamo a Dio Padre e con il mio grazie a Gesù. Nel spirito santo e nel musico si rivolgiamo a Dio Padre e con il mio grazie a Gesù. Nel spirito santo e nel muro, ha mandato nei vesti fuori lo sign screen su. Feliceropatient. Grazie. 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 Acá estamos. Grazie. 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 Aquí estamos pidiendo por toda nuestra gente querida. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti